Venerdì, 13 ottobre, il mondo del calcio, il mondo del calcio è inginocchiato e ai piedi, e ai piedi, di Fabrizio Corona. Guarda la curva a sud, guarda che viene giù, se è girato a giro, giro io non ti sento più, se è girato a giro. Dio voli rosso neri tifosi della squadra capolista, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate il like, è tutto completamente gratuito. Dì, 13 ottobre, come vi dicevo, il mondo è inginocchiato, è inginocchiato, è inginocchiato, ai piedi di Fabrizio Corona. Adesso lasciamo stare le perculate, facciamo un video serio per una volta, perché io non ho più parole, veramente. Questa è l'Italia, un paese che sta diventando una merda su tutti i punti di vista. Perché in Italia, pur di far parlare di sé, pur di riemergere, quando probabilmente arrivi da un periodo che non ti caga più nessuno, non ti caga più nessuno, bisogna speculare anche sulle disgrazie degli altri, perché la ludopatia, cioè il vizio del gioco, è comunque una malattia. E' una malattia vera e propria, perché è come una droga. E bisogna speculare, perché è quello che sta facendo Fabrizio Corona, sta speculando, così di sua spontanea volontà. Perché un giorno si è svegliato la mattina e ha deciso di fare la spia. Lui sta speculando su questi ragazzi che hanno questo problema. Il caso Fagioli, Fabrizio Corona salta fuori dal tombino e decide di tirar fuori altri nomi, sul suo canale, sito, non ho capito bene, di giornata, di testata giornalistica, e promette che ogni settimana farà un nuovo nome. E il mondo del calcio trema, è ai piedi in questo momento di Fabrizio Corona, perché questo comporta a squalifiche, comporta a indagini, processi, verrà fuori un macello. Sta per succedere un macello. Perché dopo Fagioli si è fatto il nome di Zaniolo, si è fatto il nome di Tonali, subito ritirati dalla Nazionale, adesso stanno indagando, io voglio dire una cosa, se hanno fatto veramente questa cosa, adesso a parte le perculate, a parte le perculate, qualsiasi giocatore che può essere, non mi interessa, se salterà fuori un giocatore del Milan, dell'Inter, qualsiasi giocatore, è giusto che paghino, perché se hanno fatto veramente una roba del genere, e soprattutto se hanno scommesso sulla squadra in cui loro giocavano, è giusto che paghino, perché non si fa. Ma quello che dico io, Fabrizio Corona, ma cosa cazzo te ne frega te, che adesso sei andato a rovinare comunque, hai marchiato a fuoco la carriera di alcuni giocatori, e vuoi andare avanti, vuoi andare avanti, facendo così stai marchiando a fuoco la carriera di alcuni giocatori, perché andranno incontro a squalifiche, sarà un bordello, perché non potranno giocare con la loro squadra di club, verranno magari escusi dalla Nazionale, verrà fuori un putiferio, ma a te, cosa cazzo te ne frega, di andare a fare la spia, di andare, di saltar fuori dal tombino, con questa storia qui adesso, in questo momento, tutto per speculare, per rinascere, speculazione su una malattia, su un problema di un'altra persona, che è vergognoso, questa è l'Italia, questa è l'Italia, parlando di Milan un attimo, accantoniamo un attimo questo discorso, se parliamo di Milan e Sandro Tonali, non date retta alle cagate che stanno dicendo da ieri, e adesso anche il Milan potrà andare incontro, a problematiche, nessun problema, non sparate e cazzate, nessun problema per il Milan, come non ci sarà probabilmente, nessun problema per la Juve, non è una combina, non è che il Milan e Tonali sono messi d'accordo, e hanno falsato la partita, Sandro Tonali si scommetteva, sul Milan, sulle partite del Milan, mentre giocava il Milan, cazzi suoi, è un problema suo, è una cosa fatta da lui, personalmente, in privato, non era d'accordo col Milan, quindi il Milan non c'entra nulla, e il Milan non rischia nulla, non è una combina, è una cosa sua, personale, quindi il Milan non rischia nulla, come probabilmente non rischiano, neanche le altre squadre, perché comunque, è una cosa che viene dal giocatore, che fa il giocatore, singolarmente, personalmente, quindi non spariamo cagate, questa è l'Italia, questa è l'Italia, speculiamo, e adesso Fabrizio Corona, ogni settimana, vuole far saltar fuori un nome, diverso, preparatevi perché, sta per succedere un macello, un macello, che voi non avete idea, vi voglio bene a tutti, e sempre forza diavolo!